C'è attesa oggi per l'incontro tra il Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato e il Presidente dell'Elva Bruno Ferrante per tentare di sbloccare la situazione che sta provocando tensione fra i lavoratori da Taranto a Verona. La famiglia Riva sostiene che la decisione di fermare gli impianti con il conseguente subero di 1.400 operai è stata provocata dai provvedimenti disposti dalla Procura di Taranto. Dall'altra parte i magistrati precisano che il sequestro non compromette l'attività produttiva. Credo che il Governo debba agire rapidamente, ha detto il Ministro Orlando, perché come hanno spiegato i magistrati si è trattato di una ritorsione che non ha uno stretto rapporto di causa-effetto con il provvedimento della magistratura, una ritorsione della proprietà rispetto alla quale, prosegue Orlando, penso si debba intervenire perché non si può lasciare che i lavoratori siano trattati come scudi umani rispetto a provvedimenti giudiziari. Il Ministro ha confermato che per venire a capo della questione si debba usare lo strumento già previsto in giugno, che è quello del commissariamento. Nel frattempo la FIMCISL fa sapere in una nota che la settimana riparte con la mobilitazione in tutti e sette gli stabilimenti del gruppo Riva Acciaio. L'ipotesi del commissariamento è una soluzione che trova d'accordo anche il segretario della FIOM, Maurizio Landini. Serve che il Governo sia in grado in prima persona di consentire la prosecuzione dell'attività, ha detto Landini, che poi ha aggiunto, i Riva non sono in grado di dare un futuro, per cui subito commissariamento. E sul futuro conclude, in prospettiva si può ragionare su un intervento diretto, anche transitorio dello Stato, per favorire un nuovo assetto proprietario dell'Ilva.